da più di un secolo sul territorio macchini ceramiche e sinonimo di professionalità e consulenza specializzata nella vendita di materiali edili pavimenti rivestimenti parche ceramiche d'arredo bagno delle migliori marche ogni giorno troviamo la migliore soluzione per ogni vostra esigenza la nostra disponibilità competenza e servizio non hanno prezzo laura e marco ti aspettano presso lo showroom a rio salso di tavuglia macchini ceramiche sempre al vostro servizio hai visto quante novità al conade di montecchio ampi ambienti completamente ristrutturati dove puoi trovare la pulizia e l'igiene di sempre in ogni reparto si bellissimo ormai è il mio punto di riferimento trovo sempre prodotti di qualità del nostro territorio molto convenienti per non parlare della grande professionalità del personale e ti ricordo che al conade di montecchio c'è un ampio parcheggio scoperto e coperto noi andiamo al conade di montecchio una buona serata telespettatori di rossini tv e benvenuti a questa nuova puntata di insieme a canestro oggi ventesima puntata stagionale ringraziamo come sempre i nostri sponsor macchini ceramiche e conade montecchio vi ricordo che siamo visibili in tutta la regione marche sul nostro canale 80 sul nostro sito web ci potete vedere da tutte le parti del mondo e anche sulla nostra app rossini tv andiamo subito con la presentazione degli ospiti perché oggi ho l'onore di avere qua alla mia sinistra quincy ford ala della carpegna prosciutto basket e pesaro e lo quincy thanks for coming here abbiamo alla sua sinistra giovanni bruscia responsabile della comunicazione della carpegna prosciutto basket e pesaro che ci aiuterà nelle traduzioni come ormai suo solito e vedete anche mauro procaccini ex giocatore della ul allenatore opinionista commentatore mauro un po di tutto quello che mi diverto a fare un opinionista mi diverto a farlo in televisione veramente mi diverto tanto cerco di essere non tanto tecnico perché non mi piace mi piace più rendere partecipi delle cose magari anche più belle più semplice il gesto ma non andare in discussioni tecniche come sento tante volte in queste telecroniche di adesso dove poi secondo me la gente normale fa anche fatica a capire qualcosa e ormai poi sei di casa quasi è avvenuto diverse volte ti ringraziamo sempre adesso passiamo alla parola a giovanni zida che come sempre ci dirà come metterci in mettersi in contatto con noi e soprattutto svederà anche il contest perché in palio ci sono due biglietti per la partita di domenica te giovanni buonasera buonasera a tutti buonasera andrea buonasera agli ospiti in studio come sempre il numero whatsapp 370 366 72 10 oppure potete commentare nella diretta facebook di rossini tv il contest che vede in palio due biglietti per la partita di domenica alle ore 18 e 15 contro reggio emilia a chi risponderà per primo riguarda proprio il nostro ospite qui in studio quincy ford qual è il massimo dei punti in stagione messi a segno da quincy ford e in quale occasione li ha realizzati e ricordiamo giovanni che saranno appunto io il primo a rispondere correttamente poi alla domanda quanti punti il suo massimo diciamo in stagione per quanto riguarda quincy volevo ricordare che sono disponibili biglietti e presso viva ticket online presso vuole pro di sport pesaro oppure presso la biglietta della vetri frigo arena dalle 16 e 15 ricordo inoltre la conferenza stampa domani mattina di coach meo secchetti per presentare la partita alle ore 10 e visto che mi dai il gancio chiedo subito giovanni biglietti come siamo messi raggiungiamo le cifre di bologna o no un po meno però sicuramente c'è molto entusiasmo dopo la grande vittoria contro bologna quindi belli carichi anche per domenica e iniziamo subito a parlare appunto della partita della grandissima vittoria non l'ho fatto prima intanto saluti elisabetta ferri che rivedremo qua giovedì prossimo ma ha lasciato l'onore di condurre la puntata dopo la grande vittoria contro la virtus e bologna e prego ad eresia di mandare in onda agli highlights della partita della bella vittoria che si è ottenuta domenica e commentiamo un po la partita prima cosa che chiedo a quincy come è stato comunque giocare davanti a tutti questi spettatori e come è stato l'umore a fine gara dopo questa vittoria bene sicuramente è stato veramente molto bello giocare davanti a 7500 persone così cariche determinate ci ha dato un extra carico l'extra motivazione per dare tutto quello che avevamo di fronte avevamo una squadra molto forte come la virtus bologna una squadra impegnata in eurolega e quindi è stato sicuramente molto bello mandarvi a casa i nostri tifosi con una grande gioia chiediamo anche a quincy come sta fisicamente ha avuto un leggero problemino la settimana scorsa ma ora la partita tu l'hai commentata come hai visto la squadra siamo sempre stati lì sempre sotto quando io ho visto quella tripla di abbas che ci aveva dato quel meno sei a tre minuti poco più dalla fine si pensava che poteva essere quella zampata ma poi abbiamo reagito e siamo riusciti a prenderci prima supplementare e poi la vittoria però secondo me dall'inizio si è vista una squadra molto concentrata in difesa come io onestamente non avevo visto da parecchio tempo e la pallacanestro di adesso se non difendi purtroppo paghi invece domenica anche se magari potevi andare sotto però c'era sempre vedevi sempre quel qualcosa in più che non era stato messo le altre partite ma succede ovviamente non è che si può fare sempre come si è fatto domenica però si è trovata una difesa veramente fisica che ha messo in difficoltà una squadra di eurolega e quando c'hai questa questa cattiveria agonistica difensivamente parlando poi in attacco poi alla fine vengono le cose anche se abbiamo tutte e due le squadre visto è stata una partita fisicissima perciò il percentuale mi ricordo al primo il primo tempo era 18 18 per cento altre punti e 17 una squadra dell'altra perciò non si è fatto quasi mai canestro però queste partite qui bisogna abituarsi a lottare difensivamente perché poi dopo alla fine qualche canestro qualche invenzione la trovi perché questi ragazzi qua sanno talento nelle mani e chiedo a quincy da dove nasce diciamo questa aggressività in difesa abbiamo visto due belle partite breccia con bologna è mancata magari quella con trento è quello che vi chiedeva il coaching settimana qual'è la differenza tra il trento e il bologna? credo che era solo il focus in la prima quarta siamo arrivati a un buon start in trento e come sai che il basket è un gioco di ruote, si va all'interno durante il gioco e credo che il gioco fuori dal gioco, perdoniamo il focus e poi finiamo con una perdita nel gioco in bologna credo che siamo tutti motivati a venire per i fanci e a dare loro qualcosa di valutare per per combattere e anche la motivazione solo per giocare in Euroleague tutti vogliono giocare bene contro le trenti competizioni e questo era anche la motivazione per aiutare la nostra difesa a giocare più forte Mauro? sicuramente il fattore chiave è stata la concentrazione e il focus quindi anche la determinazione e la motivazione di voler regalare una grande gioia come diciamo prima ai nostri tifosi quindi sicuramente c'è stata rispetto ad esempio la scopita contro trento tutta altra concentrazione nella parte nostra Mauro di Bologna chi ti impressiona sempre un po' di più dal vivo? ma sicuramente Schenghelia Schenghelia perché secondo me è un giocatore straordinario infatti anche Quincy penso che possa confermare che sia un giocatore estremamente duro e una grande esperienza una grande tecnica secondo me è un giocatore forse tra i più forti i numeri 4 di Euroleague insieme mi viene in mente è stato spesso messo poi su Foreman che poi ne parliamo una cosa di cui dobbiamo parlare è il traguardo che comunque ha raggiunto Andrea Cinciarini perché è stato prima di tutto nominato come miglior italiano per quanto riguarda quindi il best hit della ventitresima giornata la vediamo qua la grafica 19 punti 8 assist e 25 di valutazione chiedo ad entrambi partiamo da Quincy un commento sulla parità di Andrea è stato eccezionale, è stato eccezionale, è stato veramente incredibile è una parità sicuramente eccezionale è stato veramente incredibile ha fatto tutto quello che sa fare che dovevamo mettere in campo per cercare di vincere una partita così importante come quella contro la Virtus quindi sicuramente posso soltanto che dire bene di quello che ha fatto Andrea Andrea che è stato qua giovedì scorso si sentiva proprio quanto teneva questa partita quanto ha detto di cercare di fare il possibile per raggiungere la salvezza Mauro da playmaker a playmaker il suo possibile l'abbiamo visto domenica contro Bologna ma secondo me era la partita che attendeva da tanto tempo purtroppo sai anche la tensione molte volte ti frega e lui secondo me ancora era un po' legato, era un po' teso perché giocare sempre da pesarese con il pubblico di pesa non è mai semplice non è nessun profeta in patria però se l'è meritata perché vuol dire non ha mai mollato nonostante anche ha fatto qualche partita magari che non era all'altezza delle sue possibilità ma secondo me era proprio una questione mentale con questa partita secondo me si libera completamente di una scimmia che aveva sulle spalle perché voleva fare una partita di questo genere gli è venuta in una partita in una serata straordinaria con Bologna gli ha messo la ciliegina sulla torta del tiro libero ma non nel tiro libero perché con Zava alla fine scherzavo dicendogli che quel tiro libero secondo me non pesava niente perché in quel momento lì pari per un giocatore come Andrea la palla è leggera non è pesante fossimo stati meno 2 due tiri liberi esatto erano molto più pesanti quelli di Bellinelli sui meno 3 però a prescindere da questo ha fatto una partita veramente clamorosa e sono veramente felice per lui perché può essere una spinta ulteriore quel click che gli può fare anche perché secondo me domenica la partita di domenica dal mio punto di vista sarà molto più difficile di quella di domenica passata poi arriviamo a parlare di Reggio Emilia la corsa anche che ha fatto verso il pubblico come diciamo un qualcosa di liberatorio esatto esatto come una liberazione per lui secondo me è stata una liberazione che posso capire da ex giocatore e di fronte al suo pubblico sui 2000 assist un piccolo accenno tu che hai fatto il playmaker lui ha già questo record un numero comunque impressionante ma sai noi una volta eravamo abbastanza penalizzati sul corso assist perché non si contava tutto nel senso che non si contavano così perché l'assist era quando proprio la mettevi a lungo da sotto che la metteva dentro adesso diciamo che il conteggio degli assist è un pochino più elastico però insomma non posso mettere in dubbio che ha raggiunto un obiettivo ha raggiunto un traguardo veramente incredibile a testimonianza della bella partita che ha fatto la Carpegna Prosciutto il fatto che due giocatori della squadra sono finiti nelle dream team della giornata ovvero parliamo di Cinciarini e di Marquise McDuffie poi li vediamo anche Galloway ne parleremo dopo perché lo affronteremo questa domenica una cosa che chiedo a Mauro per quanto riguarda Foreman i primi tre quarti non benissimo poi però nel finale di quarto quarto e nel supplementare ma sai è un ragazzo adesso io chiaramente l'ho visto due volte mi è sembrato molto che senta molto le partite in più secondo me non si aspettava quello che che gli è capitato domenica cioè nel senso che quando ti marca Cordinier ti manca Lundberg le cose poi quando fai le prime due partite 25 o 20 è ovvio che poi ti capita la squadra di Eurolega e lì c'hai il trattamento che non è semplicissimo perciò però secondo me bellissima la reazione del supplementare io l'unica cosa che volevo ho un attimo tra virgolette rimproverato Cinciarini nella gestione dell'ultimo pallone prima dei supplementari che mi sarei preso la responsabilità di fare l'ultimo tiro io cioè di cercare qualcosa io perché in quel momento lì Andrea aveva tutto in mano e aveva la squadra sulle spalle sue invece secondo me anche la gestione ultima di Foreman non è che Foreman veniva da un momento di un possibile fallo secondo te c'era un possibile fallo sì però hai capito in quel momento lì della partita Foreman non veniva da una partita esaltante o meglio il supplementare esatto e allora invece Andrea veniva da un però sai sono cose sono considerazioni che si fanno stando seduti così è molto semplice ma in campo ovviamente sai anche Andrea magari la stanchezza le cose di qua di là è ovvio che ti affidi a un giocatore che sa battere l'uomo che può tirare da tre punti che si può buttare dentro e prendere un fallo uno contro uno però sai vedere il pelo nell'uovo che insomma è una stupida considerazione se dobbiamo trovarlo in una bellissima vittoria Quincy che cosa ha portato l'arrivo di Foreman in squadra in settimana durante le partite? un giocatore molto un giocatore di livello può fare tutto tre punti entrare al gioco con un gioco è molto forte ha grandi mani è molto atletico credo che ha portato un gioco diverso alla nostra squadra siamo molto più atletico e è solo un gioco che può aiutare con la scuola ottimo giocatore ottimi mani grande talento e grande combattente quindi sicuramente ci aiuta anche ad avere maggiore intensità nella squadra e anche una maggiore propensione ad essere veloci quindi sicuramente è un valido contributo quello che porta Justin e dal tuo punto di vista personale pensi che comunque anche il fatto che lui gioca molto uno contro uno può liberare spazi per un giocatore come te che ti piace anche tirare da tre punti spazi che possono aiutare queste per un gioco che torni sui controlli per un corso dire sui controlli tre punti sui controlli Sì, siamo insieme da poche partite perché comunque è arrivato da molto poco tempo, però sicuramente già si vede che stiamo un po' imparando a trovarci, comunque crea degli spazi importanti anche per noi compagni di squadra, quindi questo ovviamente porta magari anche gli avversari a dirottare, comunque a comodiare più su di lui e quindi noi possiamo avere sicuramente più spazi, anche per tirare da tre, più spazi liberi. Chiediamo anche a Quincy come si vede lui come giocatore, nel senso anche la differenza che c'è stata anche con il cambio di allenatore, che cosa magari l'è stato chiesto maggiormente da Sacchetti e come si trova come modalità di gioco. Compari, per esempio, con Cosposcaglia e come riguarda te stesso come giocatore? Se cambiate il tuo gioco? I think the only difference right now is when Iggy left, I had to move my position to position 5, which I'm not, I think everybody knows I'm not position 5, but whatever it takes to win, I'm fine with doing, sacrificing for the team. I just want to win. I don't care if I have 10 points, 20 points, 0 points, I just want to win. And with Buscaglia it was more so just trying to find my rhythm in the game, but just always make sure and I play defense and rebound and just find open guys and being a team player. La differenza principale è che con Buscaglia magari si cercava di farmi entrare un po' più in ritmo nella partita, mentre invece con Sacchetti siamo un po' più operativi, nel senso che con il cambio di vettore c'è stato anche un leggero cambiamento di posizione, quindi praticamente andiamo un po' più sul pratico e comunque a me non importa se segno 0, 10 o 12 punti, a me quello che importa è soltanto vincere. Mi sacrifico per la squadra, ma a me importa soltanto vincere. Giovanni, vai Mauro. No, no, volevo solamente puntualizzare una cosa, che quando un ragazzo dice certe cose bisogna metterle in risalto, perché non importa se segno 0, 10 o 20, anche perché la gente comune guarda a quanti punti ha fatto l'americano, si guarda il tabellino, invece nel suo caso non è così, penso che bisogna rendere l'onore a un ragazzo che dice queste cose, il sacrificio che sta facendo, perché non segnare o fare un tiro o due tiri non è semplice, perché si aspettano, anche lui magari si aspetterebbe qualcosa di più da se stesso, però mi sembra un ragazzo estremamente serio, estremamente educato, io l'unica cosa che gli vorrei chiedere, se mi permetti... Prego, prego. Perché è quello che poi durante le telecronache io spesso gli ho chiesto, perché l'ho visto con Milano, per esempio la partita dell'andata, e l'ho visto andare in post-up parecchie volte e giocare molto bene in post-up. E volevo chiedergli se gli piaceva giocare in post-up, per esempio. Un pochino, penso che solo dipende dal matchup, e anche se c'è un switch o un mismatch. Mi piace andare in miei spot e cercare di prendere il mismatch. Perché secondo me lui è un giocatore che può fare dentro e fuori senza problemi. Può giocare da tre, da quattro, da cinque. Assolutamente, ma anche da quattro, quando su un cambio difensivo. E secondo me nella prima parte di campionato lui è stato poco sfruttato in post-basso. Poi, sai, è sempre le stesse cose. Da fuori è sempre più semplice fare l'allenatore. Però sono qua per... Però mi piaceva mettere in risalto anche l'umiltà di un ragazzo che si mette veramente a disposizione della squadra. Poi quella partita che hai citato, mi pare che Quincy prese 13 rimbalzi. a Milano fu una delle sue migliori partite per quanto riguarda il rimbalzo. Quindi, Giovanni, andiamo da te. Allora, abbiamo un po' di domande. Iniziamo subito. Ciao Quincy, andrà da Terra Roveresca e ci chiede come ti trovi a Pesaro in città ma anche con i compagni di squadra. Come ti trovi a Pesaro? Come ti trovi a vedere il mondo? Come ti trovi a vedere il mondo? Come ti trovi a Pesaro? E i miei amici hanno tutti stato riusciti e vogliamo finirci forte. Per sicuramente. È tutto bellissimo. Pesaro l'adoro anche perché comunque io vengo dalla Florida quindi un posto anche quello non male. Mi piace molto il mare ed è bellissimo anche avere come la mia famiglia quindi sicuramente mi trovo benissimo ed è buonissimo anche il cibo quindi non potrei chiedere di meglio ed è una delle città migliori in cui ho vissuto finora. Il tuo figlio è nato in Pesolo, in realtà? Sì, quindi è italiano. Può giocare nazionalmente. Sì, sicuramente, ha dato il passaporto. Un'altra domanda. Qual è stato il momento più emozionante della tua carriera in tutta la carriera che hai fatto fino ad oggi e perché? Ce lo chiede Marco da Villabetti. Sì, sicuramente. Sicuramente in college, vincere la nostra prima championship e andare al tournament NCAA, che sta succedendo ora. Ne parleremo dopo. Sì, è stato uno dei miei più momenti. Sicuramente quando abbiamo vinto al college il primo titolo, quindi il primo campionato. Quello è stato sicuramente il momento più emozionante del mio credito giocatore. Giovanni? Sì, Diego Terenzi. Grande Mauro. Ti aspetto al campetto per uno contro uno. Emanuele Gambini. Saluta tutti gli ospiti in studio. Mauro, abbiamo due domande per te. Secondo te, rivedremo un play pesarese da qui a prossimi dieci anni proveniente dal settore giovanile della VL. A parte, possiamo dire, queste nuove eleve che stanno arrivando dall'under 19, ma tra dieci anni li vedremo e Riccardo ci chiede questo. Questa domandona. Aspetta che prendo la sfera di Cristiano. Mi piacerebbe molto, ovviamente, rivedere qualche playmaker pesarese a giocare ai massimi livelli. Però, sai, bisogna... Adesso la palacanestro è cambiata tanto. Io spero ci sia un ritorno, ma veramente un ritorno serio nella valutazione, nella rivalutazione dei settori giovanili che per me rimane la base di tutto. Specialmente adesso dove anche è fondamentale cercare di crescere dei ragazzi della tua città oppure della tua società per poi cercare di farli esplodere, sai. Noi ai nostri tempi eravamo forse... Ovviamente c'erano solo due stranieri, eri un po', diciamo avvantaggiato, ma... Però dovevi essere forte per giocare. Qualcosa dovevi saper fare. Però i settori giovanili erano trattati in maniera diversa, in maniera differente. Adesso, secondo me, si tende un po' a lasciare andare per il bene magari della prima squadra, così. Però, ti ripeto, io spero che magari ci sia uno dei miei, no? Ecco, a proposito, Mauro, come sta andando la tua Under 17 che domani giocherete per il secondo posto contro Urbani? Mario da Talacchio. Ostia, siamo famosi! No, mi diverto tantissimo. Sono un Under 17, un Under 14. L'Under 17 sta andando oltre le mie più erose aspettative. Perciò domani giochiamo per il secondo posto. Ovviamente è campionato Silver, non l'eccellenza. Però, sai, per me è un divertimento stare in palestra con i ragazzi, cercare di farli crescere, cercare di farli divertire, anche insegnargli un po' di fondamentali, ovviamente. Sono felice perché vedo la mia società che sta crescendo veramente tanto, ho tantissimi bambini, tantissimi ragazzi, e cerco di fare il massimo. Poi il sogno sarebbe vedere magari un mio ragazzo un domani magari giocare per la VL, però so che non sarà una cosa semplice. E poi partite come quelle di domenica comunque fanno aumentare quella voglia di giocare a pallacanestro. Ci sono tanti bambini al palazzetto. A proposito del settore giovanile, quello della UL sta andando bene per quanto riguarda appunto il settore giovanile. L'anno scorso la vittoria della Next Gen, quest'anno comunque ci siamo andati vicino, poi Stazionelli e Maretto erano aggregati con la prima squadra, però magari quel salto che dici tu da settore giovanile alla prima squadra ancora oggi è molto grande. Fai fatica. Guarda, adesso io voglio prendere proprio la partita di domenica prossima, perché sto leggendo di Reggio Emilia che sta investendo in maniera corposa per il settore giovanile. Dal prossimo anno avranno, mi sembra, due palestre nuove, stanno investendo tantissimo. E quella lì per me è la strada. Adesso non a caso i Faiet o i Grant, questa gente qua che alla fine, poi alla fine ti può portare anche soldi, perché se magari Faiet domani va in NBA ti porta dei buyout clamorosi dove te puoi ricontinuare a lavorare veramente in maniera pesante sul settore giovanile. Perciò io dico che la strada è quella lì, però ovviamente bisognerebbe avere anche le possibilità di avere anche qualcuno che dice investo sul settore giovanile. È anche una questione di cultura, perché, ripeto, ci vuole qualcuno che capisca un proprietario importante, che capisca quanto importante è il settore giovanile. adesso sai il fatto di essere lassù e basta, no? Invece le basi, come nel calcio le squadre, come poi, io dico, guardo sempre, cioè come esempi anche il top, cioè l'Atalanta nel calcio, no? L'Udinese, queste squadre che cosa fanno? Investono su tre giovanili. Che poi li portano poi, come dicevi tu, introiti economici. Nella pallacanestro è molto, ma molto, ma molto più difficile. Però la strada è quella. Giovanni, abbiamo ancora una cosa? Sì, ho una domanda, però, come ha affermato questa mattina, l'Unautel Sergio Emilia vorrebbe arrivare quinto per poi, il prossimo anno, fare una Coppa Europea. Quindi, Alessia ci chiede se hai mai mangiato la pizza rossini. Pensa di sì, anche sì. Spiegagli che cos'è. Special pizza, from peso, with eggs, tomato... Oh, sì, sì, sì. È una manzana, è una manzana. Hai giocato in Ungheria, Belgio, Germania, Francia, Grecia. Dove ti sei trovato meglio tra questi? Ovviamente in Italia. E magari se hai visto anche delle differenze di cultura per quanto riguarda il basket? Sì, credo che l'Italia è, per far, il più alto livello. Solo perché le squadre, da top a bottom, sono tutti competitivi. Non c'è un gioco facile. Non c'è una notte in cui puoi rilassare. Pensi che vieni in e vieni. E la Germania era anche così, simile. La Ungheria non tanto. Ma sicuramente l'Italia è, per far, la più divertente liga che ho mai avuto. E il più alto livello. Beh, sicuramente il campionato italiano è quello più competitivo tra tutti quelli in cui ho giocato finora. E lo capiamo anche per il fatto che non c'è nessuna partita, nessuna serie in cui scendi in campo per rilassarti. Quindi, è un bello tosto, lo sapevo. Però questo sicuramente è il campionato a livello tecnico migliore in cui ho giocato finora. Quindi, ti aspettavi questo approccio con il campionato italiano? Sì, ho ascoltato molti grandi cose prima di qui. E questo è esattamente quello che ho aspettato. Tasto, fisico. Mauro, capitolo Foreman. La domanda che tutti un po' si chiedono. Più playmaker o più guardia. Abbiamo già un po' sfatato prima il mito. Non c'è più, diciamo, il playmaker vero all'Andrea Cinciarini. Quello che ha fatto nel supplementare, mi ricordo anche la giocata un po' alla rondo. Mamma mia. Ha fatto delle cose per la sua statura. O anche quando ha provato a schiacciare non c'è riuscito. Secondo me che ero lì, c'era un fallo grandissimo su di lui. Come ti sembra questo giocatore? Si è un giocatore, come ha detto prima Quincy, un giocatore con un talento offensivo incredibile, con una forza fisica per essere 1,85m forse si è. Anche con buoni fondamentali. Un buonissimo palleggio, batte l'uomo con due gambe veramente da NBA, mi sembra. Tiro ottimo. Adesso speriamo che la partita di domenica gli possa servire ulteriormente perché non dimentichiamoci che questi ragazzi sono giovani o mediamente giovani. Si trovano a sbattere subito il naso con squadroni con della gente di 37-38 anni tipo Bellinelli, Schenghelia, Hackett, Chiaro Cordinier, che ha un'esperienza alle spalle incredibile. E loro ovviamente possono avere qualche problema. Perciò lo stare lì e vedere e competere con questa gente non può fare altro che migliorarli e dargli lo stimolo di migliorarli. Però Foreman vale il discorso per Foreman, può valere il discorso per Quincy, ma può valere per Blue Head, per tutti questi ragazzi che sono arrivati quest'anno che tra virgolette hanno, forse come ha detto Quincy, il campionato italiano non lo conoscevano così bene. Perciò è difficile, è molto difficile. La gente deve capire che è molto difficile. Il campionato italiano forse è uno dei più difficili campionati europei. Anche per quanto riguarda, magari si parla anche di tattica, come magari si studia l'avversario, abbiamo visto la prima cosa che abbiamo detto dopo i 25 punti di Foreman con Brescia, ora lo studieranno. Lo hanno studiato e si è visto. Appena comunque prende il pallone c'è uno su di lui. Ma sì, perché adesso tatticamente, anche difensivamente, puoi fare mille cose. È ovvio che bloccare un piccolo può essere facile e può essere difficile. Quando hai giocatori come Cordinier e Lundberg è abbastanza semplice. Ovviamente quel trattamento lì però non è che ce l'hai tutte le domeniche. A Reggio Emilia non ha giocatori che possono sacrificarsi in difesa così tanto su di lui. Allora, lasciamo un attimo, accantoniamo quindi la vittoria con Bologna. Andiamo a vedere la classifica perché si è mossa per quanto riguarda soprattutto la VL. Ci sono state anche le vittorie di Brindisi e la vittoria di Treviso. Mancano sette giornate alla fine. Ci sono 14 punti a disposizione. La prima domanda che faccio anche a Quincy può essere una corsa 3 o pensate di far rientrare in corsa anche Varese, Cremona? Sì, credo che come squadra facciamo solo un gioco a un tempo. Il Sunday è il prossimo gioco. Il nostro 100% focus è su questo gioco. Siamo dove siamo nella stanza e lo sappiamo. Ma come squadra vogliamo solo un gioco a un tempo. Abbiamo avuto Bologna e ora abbiamo Reggio. Questo è il nostro focus. Sappiamo come siamo messi in classifica. Domenica abbiamo giocato contro Bologna e abbiamo vinto. Adesso domenica arriva un'altra partita, quella contro Reggio Emilia. Poi non arriva un'altra, però dobbiamo pensare una partita alla volta. Siamo consapevoli comunque del nostro posizionamento in classifica, però una partita alla volta e pedalare. Mauro Quincy giustamente diplomatico, l'ha detto anche Andrea Sincerini una partita alla volta. Se guardiamo però la classifica, Varese è lontana a 4 punti e noi siamo comunque 0-2 con loro. Ed è magari un pochettino più difficile fare questo discorso. Cremona, ugualmente distante 4 punti, abbiamo perso all'andata, giocheremo in ritorno alla penultima giornata a fine aprile e abbiamo comunque un meno 27 per quanto riguarda Cremona, però come mi diceva anche prima a fuori onda che ne chiacchieravamo, inglobare più squadre nel discorso e non avere comunque su tre squadre c'è quel 66% di probabilità comunque di retrocessione. Se invece una corsa diventa a 4 o a 5 è diverso. Io sono convinto che, poi visto anche il momento di Cremona e di Varese... Vediamo anche appunto, mettiamo questo, riguarda la corsa con Treviso, Pesaro e Brindisi. Entrambe hanno vinto la 23esima giornata, tutte e tre hanno giocato in casa. La prossima, che poi ne parleremo, è importante perché noi giocheremo nuovamente in casa con Reggio Emilia, mentre Treviso andrà a Pistoia e Brindisi andrà a Scafati, due squadre che comunque si giocano un posto ai playoff. No, no, ma secondo me non è una lotta 3. Ok. Per me rientrano Cremona e Varese, sono sicurissimo di questo. Perché prima non stanno vivendo un buonissimo periodo, poi 8 partite e quando prendi quel trend negativo non è semplice. Guarda Cremona è partita all'Astra Grande e adesso è in un tunnel da tanto tempo. Varese è una squadra che onestamente io faccio molta fatica a comprendere perché vederla a certe partite, vederla domenica, dici boh, non lo so. Però c'è gente di talento, adesso come dicevamo prima hanno inserito un altro americano. Varese oggi pomeriggio ha ufficializzato l'arrivo di un nuovo giocatore, Michael Gilmore. Abbiamo anche una foto, un'ala di 2 metri 8, praticamente un'ala grande. Vedremo come lo inseriranno. Loro hanno perso nella pausa, hanno perso il loro miglior giocatore che è Alan. In questo momento sono in difficoltà, stanno facendo bene, hanno fatto bene comunque in Coppa. In campionato forse pensavano di aver messo Fieri in cascina, di essere salvi. Il problema è quello lì, anche Cremona è la stessa cosa. Secondo me se tu pensi, al momento in cui tu pensi di essere tra virgolette tranquillo, è la fine. Io, se vado un po' indietro nel tempo, quando abbiamo fatto lo spareggio contro Mestre del famoso di Milano dei 77 Pullman, noi a due giornate della fine eravamo meno 4 da Mestre. Meno 4. Vincemmo in casa e Mestre perse a Milano. No, la penultima partita e noi vinciamo a Mestre. Perciò li raggiungiamo in classifica. Cioè, meno 4 li raggiungiamo pari e poi vinciamo al spareggio. Perciò, ancora sono 8 partite, figurati te... Sette partite. Sette partite. Figurati quanto ancora c'è 14 punti e una vita. E Cremona e Varese devono stare molto attenti. Molto attenti. Vedo, paradossalmente, molto meglio Treviso adesso di Cremona e Varese. La stai vedendo bene, Treviso? Treviso, sì. Sarà anche un match importante quando noi andremo a giocare in casa loro? Treviso, sì. E poi domenica, per esempio, gioca una partita dove Pistoia, che sta facendo veramente miracoli, perché è la squadra assolutamente sorpresa del campionato. Ha vinto a Napoli. Ha vinto una partita clamorosa. Però, ragazzi, quando le squadre giocano bene bisogna ammettere che giocano bene, che hanno preso, hanno azzeccato tutte le scelte che hanno fatto, è allenata molto bene, perciò Pistoia bisogna togliere il cappello. Però, sai, adesso in questo momento Pistoia è una squadra che potrebbe anche un attimo rallentare, perciò Treviso potrebbe anche approfittare magari più della partita di Pistoia che le altre due che giocano, non so dove. Però, ripeto, è da vedere. Per me ritornaranno tutti nel mucchione. Adesso parliamo appunto della partita che giocheremo domenica contro Reggio Emilia. Già Mauro, prima hai detto che è più importante di quella contro Bologna. A Quinn si chiedo cosa ne pensa di Reggio Emilia, se si è già un po' iniziato a osservare qualche giocatore. che squadra è Reggio Emilia? Che squadra è Reggio Emilia? Anche se riguarda Reggio Emilia? In generale. In generale. In generale. In generale. È una squadra sicuramente molto di grande qualità. Molto intensa, tosta, difficile da affrontare. Può vantare sicuramente il proper roster. Giocatori molto temibili, molto pericolosi. Però noi giochiamo in casa. Quindi sicuramente anche per giocare davanti ai nostri tifosi deve essere un ulteriore arma, un ulteriore motivo in più per dare tutto quello che abbiamo. Sono consapevoli che non sarà una partita sicuramente facile. Siamo anche consapevoli che sarà una lotta furibonda. ma sono anche consapevole che possiamo e dobbiamo farcela. Nella partita che abbiamo visto prima mentre andavano gli highlights alla vittoria di Reggio Emilia contro Varese. 38 punti di Galloway con 8 su 15 da 3 punti. Prima di andare da te Mauro chiedo a Quincy. Abbiamo visto più volte lui marcare il giocatore all'esterno di una squadra avversaria. Se questa qua potrebbe essere una soluzione. Buona idea. Blocca per esempio l'esterno di 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 Reggio. Sì, spero di bloccare molti dei tifosi. Sicuramente. Speriamo possa esserlo però perché no. Mauro Galloway? Galloway è un attaccante clamoroso. Però ci avranno già pensato penso. Nel giorno in andata mi ricordo partite dove lui è andato a difendere sull'esterno. No, lui con le qualità che ha difensive potrebbe essere il giocatore forse ideale per marcare Galloway. Potrebbe essere una buona idea, no? Non è buona per te ma... Sì, voglio essere uno. Puoi farlo sicuramente. Ricordiamo che all'andata a Reggio per Demo 101-68 fu una brutta partita. Lì ci fu una grande partita di Erwey che ne fece 29 che però non è più a roster di Reggio Vigna. Ne hanno tanti. E anche Tariq Black mi sembra un giocatore che da come ho visto un mese fa, da quando era arrivato alla partita di domenica mi sembra che anche fisicamente... Entrato in forma. Stia crescendo tantissimo. Quindi l'aver ritrovato comunque un tuo te anche nelle ultime settimane... Importantissimo, importantissimo. Però come ti dicevo prima la partita di domenica secondo me sarà molto ma molto più difficile dal punto di vista emotivo e mentale rispetto a quella di Bologna dove o bene o male giocavi con la testa abbastanza leggera. Ma quella di domenica diventa un bivio veramente importante per Pesaro. Anche perché due vittorie di fila non sono mai state fatte potrebbero essere diciamo quello slancio che in un finale di stagione che abbiamo detto è veramente molto importante senza magari anche guardare la classifica che poi alla fine domenica sera alle 8 si guarderà la classifica però può essere davvero importante. Intanto perché comunque potresti agganciare le squadre davanti a te andare a meno due da un'eventuale magari sconfitta di Cremona e di Varese. Però la partita con Reggio è importante da questo punto di vista perché poi avremo anche due trasferte consecutive e può dare morale. Assolutamente. Per quello è meglio come ha detto Quincy pensare una partita alla volta perché poi è meglio non pensare che dopo c'hai Treviso, dopo c'hai questo, dopo c'hai quest'altro. è assolutamente un discorso legittimo quello che ha fatto. Però, ripeto, per me sarà una partita molto ma molto complicata dal punto di vista mentale e dovrà essere affrontata nel migliore dei modi. Spero che tanto ci sarà 6-7 mila persone di nuovo che spingeranno la squadra e quello potrebbe essere un'altra chiave importante per Pesaro. Prima di riandare da Giovanni chiedo a Quincy come è stata un po' la settimana di lavoro se è dato tutto come da programma. Sì, è stata una buona settimana e produttiva di pratica. Tutti sono entrambi. Siamo conosciuti il lavoro che bisogna fare e credo che questo è il focus di tutti. che è arrivato a settimana, come è arrivato a settimana. E inoltre, come i fanci venivano l'ultimo settimana. Siamo necessitati di essere un po' la settimana. Beh, sicuramente è una settimana, continua ad essere una settimana molto produttiva. Tutti noi sappiamo che c'è tanto lavoro da fare ma lo stiamo facendo bene. Ovviamente l'obiettivo è quello di, come domenica scorsa, ripetersi per regalare un'altra bella vittoria e gioia ai nostri tifosi. E poi Mauro si dice sempre che vincere aiuta a vincere. Aiuta a vincere. Quindi il fatto è che arriva comunque un'altra partita in casa. Con Brescia è stata una bella vittoria e poi è arrivata una brutta trasferta. È arrivata una bellissima vittoria soprattutto per quanto il match, per quanto comunque la classifica perché poi hanno vinto tutte quelle che erano lì in basso con te. Rende la settimana un pochettino più gioiosa in palestra. Beh, più leggera ovviamente. Ma a proposito del discorso retrocessione, io sono abbastanza in contatto, ho visto i miei trascorsi con Brindisi. Brindisi è una squadra che ci crede tantissimo, cioè nonostante sia quella più indietro. Però adesso a livello anche di come sta giocando anche la partita di Trento, di domenica, adesso la gente ci comincia a credere, cioè andare a giocare a Brindisi non è che semplice. Vincere a Brindisi non sarà semplicissimo, te lo garantisco al 100%. Infatti anche Trento ci ha rimesso subito le pene. Ma è importante lo stato d'animo. Adesso anche loro sicuramente saranno in uno stato d'animo positivo. E vedrai che secondo me quello lì sarà la testa, poi alla fine è quella cosa che ti fa andare oltre. Anche se Brindisi diciamo che è in una situazione ancora più complicata essendo a dodici punti. Ovviamente. Non dico che dovrebbe vincere quasi tutte e sette, ma più o meno farne in maniera cinque su sette. Sì, però non molleranno facilmente. No, quello assolutamente no. Ne sono pienamente convinto anche io. Giovanni? Come vi preparate mentalmente per la partita di domenica? Ce lo chiede Marco da Pergola. Come vi preparate mentalmente per la partita di domenica? Il team. Il team. Il team? E tu. Oh, e me? Il team e il team. Il team, penso, è proprio pratico. Usi come insieme, capire cosa dobbiamo fare. E non è proprio come, abbiamo bisogno, abbiamo bisogno, abbiamo bisogno. di fare le cose che aiutano a vincere. Rebounding. Defensi. Comunque. Assignamenti. Tutti i piccoli dettagli che abbiamo bisogno per farlo a vincere. E per me, personalmente, mi piace di non overthink molto. Mi piace di rilassare, sicuramente che sia preparato mentalmente. Siamo con il mio figlio, con la mia figlia. E' proprio il migliore di preparare. Non mi piace di essere stressato. Per quanto riguarda la squadra, sicuramente, allenandoci bene in settimana, tutti sappiamo quello che serve, che dobbiamo fare. E quindi, ovviamente, essere molto intensi in difesa, prendere gli imbalzi, ascoltare, capire bene, recepire bene le indicazioni del coach. Per quanto riguarda me, invece, essendo il modo migliore per prepararmi a una partita, personalmente, è quello di non sovraccaricarmi troppo. Quindi, di non stressarmi troppo. Di pensarsi il meno possibile. Esatto. Cerco di godermi mia moglie, mio figlio. Quindi, stare calmi e lavorare. E poi ci sono delle belle giornate. Anche se stasera, improvvisamente, è cominciato a piovere. Lo sentiamo anche qua, Giovanni. Sì. Mauro, ci ricordi qualche aneddoto di quando giocavi con Joe Pace? Non so le parole. Quanti giorni abbiamo? Facciamo notte. A parte, ci tengo a dire che fino a quasi tutti i giorni ci sentiamo. Mi manda i messaggi quasi ogni giorno. E io sono felice perché, onestamente, non vive benissimo là negli Stati Uniti adesso. E poi è molto solo. E, ripeto, lo sento, guarda, fino a ieri ci siamo messaggiati. Ogni tanto ci facciamo una videochiamata. e gli aneddoti con lui sono infiniti. Però, ti dico solo... Forse quello più bello... No, più bello. Quello che magari... Giusto, quel primo che mi viene in testa è la partita di Cantù. Quando vincemmo a Cantù, che allora non era semplicissimo vincere a Cantù. E dove lui, in 29 minuti... Al 29esimo aveva fatto 36 punti e 25 rimbalzi. Al 29esimo aveva fatto il quinto fallo. E non era andato in panchina. Era andato direttamente nel tunnel, nello spogliatorio. E dopo 5 minuti che la partita... Ovviamente, ancora c'erano 11 minuti di gioco. E dopo 5 minuti ce lo siamo visti comparire dal tunnel con la radio in spalla. Il suo cappotto famoso di Kashmir, che voi ovviamente siete giovani, non ve lo ricordate. Però è sbucato dal tunnel e è andato in panchina con il radione e il cappotto. Questa è una delle tante che mi ricordo del grandissimo Joe. Però aveva fatto semplicemente 36 punti e 29 rimbalzi. Poteva permetterlo solo di venire in panchina con la radio. No, non voleva e aveva già dato, perciò era questo Joe, un po'. Giovanni. Grazie mille, e lo vai pure. Possiamo andare. Allora, prima Quincy l'ha accennato perché stanotte, piccola curiosità, parte la March Madness. March Madness è uno dei miei mesi favoriti, periodo. Allora, vuoi sapere chi ho preso per la città nazionale? Sì. Vogliamo un protostico. Per te, quale squadra potrebbe vincere la March Madness? Due scelte. Ho UConn che vincere in un ruolo, e ho Houston che vincere in un ruolo. Quindi UConn vincere. UConn ancora? UConn ancora. Sì. Mauro, segui un pochettino? Poco. Poco, perché a parte che non si vede. È complicato vedere, la prima volta non si vede. Sono ormai 3-4 anni che non si riesce più infatti a vedere, però per quanto riguarda la spettacolarità, quella cosa che magari dicevi tu prima anche del settore giovanile, qui non parliamo più di giovanissimi, però quella cosa che... Beh, ma non è un caso che tutti gli ragazzi americani che gli chiedi la domanda di prima qual è il momento più eccitante della loro carriera, ti parlano del college. Ma ti dico, il 99% di tutti gli americani che ho giocato con me, tutti quanti mi parlavano sempre del college. E magari meno di NBA. E ho giocato con tanti ragazzi che hanno giocato in NBA, che hanno vinto anche titoli NBA. Però il 99% mi parlavano sempre dell'esperienza incredibile delle università. Beh, anche perché comunque giocare... Anche perché hanno quell'età lì che a 18 anni ti ricordi, i più bei ricordi sono quelli lì. Anche penso legati all'età, io penso. Anche comunque i giocatori italiani che hanno fatto il college, ad esempio anche Moretti che era venuto qua, l'ha detto come sua esperienza, poi lui ha giocato anche la finale che poi ha perso con Texas Tech. Ha sempre detto comunque che quella del college è un'esperienza incredibile. Unica. Giocare davanti anche a 70.000 persone. Nel nostro piccolo noi cerchiamo con i nostri giocatori di dare il massimo supporto. Facciamo un piccolissimo spazio pronostici. Queste sono domande per entrambi. Chi vince il campionato italiano, Eurolega e NBA? Iniziamo da Mauro, dai. Italiano? Milano. Milano. Milano bis. Sì. Eurolega. Voglio andare controcorrente. No, non ce la faccio. Real Madrid. Real Madrid bis. Sì, non ce la posso fare. L'anno scorso ho avuto la fortuna di vederli dal vivo, poi stasera c'era di nuovo la partita che ho visto io, Partizan Real Madrid, che io l'anno scorso ho visto a Belgrado. Che eri ospita, hai visto allenamenti anche. Sì, sì, sono stato 5-6 giorni lì a Belgrado. Ho visto che il Real Madrid è una cosa veramente illegale. E poi che hai detto NBA? Denver bis così. NBA, io onestamente faccio fatica perché non guardo tanto, ti dico la verità, però ti posso dire Denver bis. Diciamo tutti i bis. Diciamo tutti i bis. Quincy? Italian league? Italian league? Probabilmente Milano. Eurolega? Probabilmente Real Madrid. Real Madrid o Olympiacos. Che pensi di Eurolega? È incredibile. È incredibile. Ogni gioco è una battaglia. I giocatori sono solo giocatori NBA. giocatori. È incredibile. È incredibile il basket. Guardo Eurolega molto. Partizan è uno dei miei team favoriti, solo perché sono un gruppo di casa. Ma credo che Real Madrid ha la migliore più forte. E spero di poterlo in l'Olympiacos nella finalità. NBA? Boston Celtics. Boston Celtics. Neurolega, che sta diventando sempre più di ispirazione dell'NBA. Per quanto riguarda il numero di partiti, ci sono anche le polemiche. anche Luca Banchi, l'ha spesso detto, che magari si va un po' a peggiorare la qualità del gioco. Stanno giocando davvero tante partite. Lato spettatori, si dice solo che bello. Però ragazzi, vedere una partita a bel grado è una cosa che veramente... Da fare una volta nella vita. Bisogna farla. Ma poi, anche se vai a vedere... Io avevo visto poi non solo Partizan, ma avevo visto anche Stella Rossa, che l'anno scorso giocava al Pioneer, al vecchio palazzetto. Quest'anno, hai visto, rigiocano anche loro alla Stark Arena, ma fanno 20.000 anche loro. Che è una roba folle, perché è una città da un milione di abitanti, che fa 20.000 e 20.000 per due squadre di basket. E per non parlare di tutte le altre squadre di bel grado che hanno attorno, e dove fanno crescere lì veramente... C'è da El Eden... Il settore giovanile. Esatto, lì proprio El Eden della palacanestra. E non so perché, un giorno qualcuno me lo spiegherà. Perché lì crescono così bene. Beh, è sempre stato così. È sempre stato così. È sempre stato così. E a proposito, nel caso in cui l'Italia dovesse superare il Preolimpico, Serbia, Stati Uniti e Sud Sudan agli Olimpiadi, non sarebbe semplice, però sarebbe bello. Beh, sarebbe bellissimo, però lo scoglio grossissimo sarà il Preolimpico. Con la Lituania... Già passare il girone, poi eventualmente incontri la Lituania, perciò anche lì bisogna che pensi una roba alla volta. Anche lì comunque la partita dell'altra zona della Virtus Bologna si è vista un'arena impressionante. Quella è un'altra arena che... Infatti l'Eurolega... Io non so se Real Madrid perde con tante squadre l'NBA, onestamente. Non lo so, forse Quincy lo può dire meglio di me. Io chiediamo... After you, El Eden, could they win some matches against NBA teams? I think so. I think it will be competitive. I think so. Fisicamente non gli manca niente. È una squadra che non gli manca niente. Anche diversi giocatori che di lì si sono passati. Esatto. Penso a De Zogna, a Tavares... È troppo difficile dirli tutti. È una squadra che poi l'anno scorso, nel momento di maggiore difficoltà, aveva perso 2-0 in casa col Partizan, è andata a vincere e poi è andata a vincere le Final Four. Prima di svelare... E abbiamo Giorgio Secondini, grandissimo Giorgio, che ci manda un'immagine, che chiede per favore la ragia di eccolo. Spiegaci questo, ci chiede Mauro. Eh, c'è qualcosa da spiegare. Questo è il palazzetto dove abbiamo giocato lo spareggio a Milano, il palazzetto di San Siro, che poi crollò il tetto per la neve, una nevicata incredibile. E lì c'erano, quella partita lì, 12.000 spettatori, 7.000 da Pesaro, 3.000 da Mestre e 2.000 altri. E quelli erano, penso, tutti i Pullman, 77 Pullman. 77, avevano fatto il contest qualche settimana fa. Che partirono da Pesaro in autostrada, questo torpedone incredibile. C'è quel filo di emozione quando vedi questa cosa. Eh sì, sì. E poi mi viene in mente la partenza, perché ancora me la ricordo, la partenza quando, ovviamente, siamo partiti che Joe Pace non c'era. Non l'ho vissuta, ma mi è stato raccontato più volte. Però insomma, a proposito di Joe Pace... Un altro aneddoto. Però, insomma... Sono ben ricordi, in effetti. Bellissimi ricordi, direi. E poi quella partita, ha voluto dire tanto, l'abbiamo sempre detto nel corso di questi anni, per quanto il futuro, poi... Sì. Beh, l'anno dopo che ho fatto... Anch'io, l'anno dopo che abbiamo fatto... Abbiamo fatto... Sono rimasto... Ho giocato anche l'anno dopo, l'anno che arrivò anche Walter, Magnifico, Sylvester, Bui e Holland. E lì è stato l'inizio delle... della... della planata, della scavolini, diciamo. Allora, io per tenere viva la tradizione che Elisabetta Ferri ha voluto fare quest'anno, ovvero quella dell'album dei ricordi, parlando con lei ho detto io scelgo un giocatore che, diciamo, ho visto giocare, perché molti li ho semplicemente visti dai video, sentiti dalle discussioni. Ho scelto Ricky Hickman, che è stato playmaker, poi c'era anche tu Mauro, quindi per quanto riguarda anche il ruolo, lo vediamo qua in foto. Ringraziamo poi anche Claudio Iacchini, WL Peso Risteri, per averci inviato il video che poi adesso, mandiamo in onda, abbiamo fatto un piccolo montaggio, perché Ricky Hickman è nato a Winston-Salem, il primo settembre del 1985, playmaker di 1,89 m, ha giocato a Pesaro una sola stagione, ma quella del 2011-2012 ha lasciato in città uno splendido ricordo. Arrivato in estate, dopo essere stato MVP della Serie A2, dove ha trascinato Casale Monferrato la promozione in A1, protagonista appunto a Pesaro, in una stagione pulminata con la semifinale Scudetto persa 3-1 contro Milano. Un playmaker esplosivo, dotato di grande tiro da tre punti, dopo la stagione in maglia WL, diciamo gli ha spalancato le porte del grande basket, perché poi è arrivata la chiamata delle Maccabi, con il quale ha vinto l'Eurolega nel 2013-14, e poi campionato e due coppie nazionali. Poi da lì Turchia, con Fenerbahce, dove ha vinto campionato e coppa, campionato e coppa turco, poi il ritorno in Italia, perché ha giocato anche a Milano nella stagione 2016-2017, questa è la schiacciata su Schermadini di quella bellissima partita contro Cantu, il suo atletismo, poi Germania con il Bamberg, anche qui la coppa, poi l'ultima esperienza ancora in Italia, dove era arrivato a Trieste nel gennaio, nella stessa partita vediamo queste due schiacciate, Trieste era arrivato nel gennaio del 2020, poi la stagione fu interrotta per Covid, io ho scelto lui, mi ricordo quella stagione, probabilmente fu l'ultimo grande momento, perché lì si giocava una semifinale scudetto, un pochettino da outsider, e oggi ogni tanto si ha quel senso di che squadra che avevamo quell'anno, mi ricordo il quintetto, Hickman, Hackett, White, Jones, Cousin, Cavaliero, Lideca, Simone Flamini capitano, era una squadra tosta, e lui è arrivato un pochettino, magari anche un po' a sorpresa in estate, comunque si diceva avevamo preso un playmaker dalla 2, poi fu un giocatore straordinario. L'hai scelto bene, ti dico solo questo, hai scelto molto bene, un grandissimo giocatore, anche perché poi quello che hai detto, quello che ha fatto dopo, bisogna solamente dire che è bravo, perché quando poi arrivi a quei livelli di Eurolega, dove vinci l'Eurolega, e poi giocando la protagonista, bellissimo, bravissimo giocatore, veramente un bel giocatore. E Pesaro, dimostrazione che è stata, e lo è ancora per anni, vetrina per molti giocatori, per poi comunque fare il salto in Eurolega, anche uno dell'ultimo è stato Tyreek Jones, che adesso gioca fisso in Eurolega all'FS. Eh ma sai, hai detto Tyreek Jones, come a me, mi viene in mente Shevarious Haines, che era Cantu, che forse anche, non so se era in A1 oppure in A2, però forse in A1, dove arrivò giovanissimo, e adesso è protagonista in Eurolega, Tyreek Jones la stessa cosa. E' chiaro che, per questi ragazzi americani giovani, che vengono dal college, dove hanno una vetrina così importante europea, poi alla fine, secondo me dopo fanno anche fatica a tornare indietro, perché quando ti arrivano le sirene Eurolega, poi dopo, forse a livello anche economico, sono anche molto più attratti dalla vetrina Eurolega, piuttosto che ritornare in NBA. Quincy, l'Eurolega è un sogno? Ti piacerebbe giocare? Ti piacerebbe giocare? Ti piacerebbe giocare in Eurolega? Ah, anche un giorno. Sì, questo è il goal. Un obiettivo, speriamo un giorno di farcela. Sarebbe bello. Siamo in conclusione, Giovanni, se ci sono domande, se no svegliamo il contest. Andiamo a svegliare il contest, il contest vinto da Margherita, ma Quincy Ford in stagione ha realizzato 18 punti, realizzati nella partita contro Brindisi il 28 gennaio 2024. Quincy che prima ci ha detto che la sua importanza di gioco non è quella di segnare, ma abbiamo visto durante la stagione che può segnare con facilità, soprattutto anche per quanto riguarda tre punti, tu Mauro prima hai parlato anche della partita con Milano, ha tanti modi per segnare e per realizzare. Mancano sette partite, quindi... Good luck! Grazie. Allora, noi siamo in conclusione, io vi ringrazio per essere stati qua con noi questa sera, ringrazio Quincy, grazie per essere venuto qui, ringrazio Giovanni per la sua sempre traduzione, ringrazio Mauro per essere stato qua con noi, sempre il nostro ospite. Quella di domenica sarà una partita importantissima, contro Reggio Emilia, ricordiamo l'orario alle 18 e 15, per quanto riguarda i biglietti vinti, poi come sempre con Giovanni, vi ricordiamo alle botteghine accrediti, per quanto riguarda poche ore prima della partita, con il nome che poi daremo noi alla società. Vi ringrazio per essere stati con noi, l'informazione con Rossini TV torna domattina con la rassegna stampa, vi ringrazio e ancora buona serata. A presto! 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 Altre servizio! Non hanno prezzo! Laura e Marco ti aspettano presso lo showroom a Riosalso di Tavuglia, macchine ceramiche sempre al vostro servizio. Oh, I keep dancing with my